Ciao a tutti, benvenuti su TV, mi piace da presto, in realtà, io per il vostro da Minixx. E ora, abbiamo un perno, io faccio abricciare la sera per affettare le tue parti del popolo. Se poi c'è per la un'azienda, io abbiamo trattato di ciò, cazzato. Se è un progetto, già, tu pensi in sé. Fai a tutti, tu un po' con il pericolo, e fino a te. Io lo so. No, è, tu, la caccia. No, sono, sono! La mia vita è un po' di rinnovazione e un po' di rinnovazione, non è un po' di rinnovazione, non è un po' di rinnovazione.